abbiamo un attimo, bene, non ha importanza, sistemiamo le spalline con comodo benissimo, Chiara e Lorenzo, Veronica e Lorenzo, Gabriele e Selene e per voi è tempo di cia 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 Aspettiamo un attimo, vogliamo mettere uno spillo da baglia, riusciamo? Ci sta? Ok, vi do io il via così parliamo tutti insieme 1, 2, 3, cia 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 Grazie Grazie a tutti